Bene, dobbiamo risolvere il problema 155, un problema di stechiometria abbastanza standard, in cui ci viene richiesta la quantità di acido fluoridrico HF che può essere ottenuto da 100 chilogrammi di fluoruro di calcio CAF2 per azione di un eccesso di acido solforico quindi è una classica reazione di spostamento in cui un acido forte ne sposta un altro quindi l'acido solforico che è l'acido forte ne sposta un altro che invece è debole e soprattutto gassoso quindi la reazione avviene a caldo si forma questo gas di fluoruro di idrogeno che poi viene raccolto condensato in qualche modo o diluito in acqua per fare questo problema ho già bilanciato l'equazione della reazione e i coefficienti stechiometrici sono uno del fluoruro di calcio e due del fluoruro di idrogeno questo significa che per ogni unità formula di fluoruro di calcio otterremo due unità formula di acido fluoridrico viene chiamato acido fluoridrico o si può chiamare anche fluoruro di idrogeno quindi da una mole che un numero diciamo macroscopico di unità di fluoruro di calcio otterremo due moli di acido fluoridrico quindi per risolvere questo problema ho già scritto le masse molare 78,07 il fluoruro 20,01 l'acido basterà calcolare le moli in 100 kg di fluoruro di calcio avremo questo numero di moli 100 che la quantità massa complessiva diviso la massa di una mole sto facendo lo stesso calcolo che avrei fatto per trovare il numero di mele da 78 grammi luna in 100 kg il numero di mele in questione quindi è 100 diviso 78,07 mettiamo c'è anche l'unità di misura possiamo mettere grammi su mole o chilogrammi su chilomole non cambia niente nel risultato che troveremo alla fine mettiamo grammi su mole che forse sembra più normale perché è quello che si trova cercandolo su google il risultato di questo numero di mori è 1,281 chiaramente se io vado a semplificare vedo che vanno via i grammi ma non i chili e quindi rimangono chilomoli la stessa cosa sarebbe risultata se avessi utilizzato la massa molare in chilogrammi alla chilomole che sono sempre 78 ok quindi a questo punto ora io conosco il numero di unità di fluoruro di calcio vado a trovarmi le unità di acido fluoridico che devono essere come abbiamo visto prima il doppio questo ce lo dicono i coefficienti stechiometrici naturalmente io per fare il doppio non faccio nessuna proporzione ma nemmeno se avessi dovuto fare i tre quinti avrei moltiplicato per tre quinti se avessi dovuto fare i cinque quarti avrei moltiplicato per cinque quarti non c'è bisogno di fare le proporzioni si moltiplica per il fattore estechiometrico che appunto 1 a 2 cioè devo raddoppiare quindi da queste chilomoli di caf2 lo raddoppio e ottengo il doppio di questo qui e 562 quindi 2,562 chilomoli la cappa la posso benissimo lasciare visto che alla fine il risultato è richiesto in chilogrammi massa in chilogrammi quindi c'è bisogno che prima la tolgo e poi la devo rimettere a questo punto io conosco le chilomoli che non sono ancora i chilogrammi ma siccome io so che ognuna di queste chilomoli pesa 20,01 chilogrammi alla chilomoli e quindi per trovare la massa la massa semplicemente dovrò fare 2000 2,562 per 20,01 e mi trovo la massa di 51,562 se non ci perdiamo lasciamo tutte le cifre adesso siccome noi abbiamo una resa del 90 per cento quindi non tutto questo acido fluidico sarà recuperato ottenuto e quindi dovremo semplicemente calcolare i 90 centesimi di questo di questa massa i 90 centesimi di questa massa sono 51 perché il 90 per cento fino a prova contraria è i 90 centesimi 51,262 chili per 0,90 e questo è 90 centesimi che danno danno 46 stavolta prossimiamo a quattro cifre significative perché il risultato finale 46,14 chilogrammi questo quindi è il dato desiderato in realtà vediamo che il dato della percentuale non era quattro cifre significative ma a tre perché era 90,0 quindi qui dovrei mettere uno zero e le cifre del risultato dovrebbero essere solo queste 46,1 bene ora ho rimesso in ordine i dati del problema e quindi ripercorriamo in maniera sintetica nel procedimento che abbiamo svolto allora il primo passaggio è consistito nel calcolare il numero di unità di fluoruro di calcio che è di 1,281 migliaia di moli questo l'abbiamo ottenuto prendendo la massa dividendola per la massa della singola mole e quindi il risultato che abbiamo ottenuto sono appunto questo numero in chilomoli poi abbiamo guardato il rapporto stereometrico che c'è tra il fluoruro e l'acido fluoridico di 1 a 2 quindi abbiamo raddoppiato questo numero quindi che abbiamo semplicemente fatto per 2 e abbiamo ottenuto quindi le moli il numero di unità di acido fluoridico o il numero di molecole di acido fluoridico che è di 2,562 chilomoli poi abbiamo convertito queste moli in massa semplicemente sapendo che ognuna ciascuna di queste 2,5 chilomoli ha una massa di qui manca la virgola di 20,01 chilogrammi quindi facendo per 20,01 ci troviamo la massa in chilogrammi che è la resa teorica cioè quanto hf si dovrebbe ottenere e infine abbiamo considerato che bisognava cioè si prevedeva si prevede di ottenere una massa minore del 90 per cento e quindi il 90 per cento di questo abbiamo moltiplicato per 0,900 e così abbiamo ottenuto il risultato